no 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 allora fai il giro sali qua sopra e scendi che poi c'è lì avanti guarda che sali sinistra sali qua sopra e scendi di lì ancora c'è il sentiero se sentire ci vedi un secondo non devi fermarti ti fermi fai come me ma sei matto dai su no tanto ti salta d'osso ti salta bravo 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 vai vai non fermarti non fermarti via bravo bravo simone bravo bravo ciao simone via 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 no è fatta benissimo hai girato e poi l'hai recuperata fatta bene bravo bravo e si l'avrò presa dentro io via 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 che si log our insieme bravo vaаться via via però il pelucche consegue viene da fare il giro wow Grazie a tutti.